Nel giorno 1 marzo, dinanzi al Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi e alla presenza del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Roberto Garofoli e del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Roberto Chieppa, in qualità di testimoni, prestano giuramento i Sottosegretari di Stato nominati con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 febbraio 2021. Giurano come Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Vincenzo Mendola, Deborah Bergamini, Franco Gabrielli, Simona Flavia Malpezzi, Assuntela Messina, Rocco Giuseppe Moles, Dalila Nesci, Bruno Tabacci. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Roberto Garofoli pronuncerà ora la formula di giuramento alla quale tutti i Sottosegretari risponderanno giuro. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. I Sottosegretari verranno ora chiamati singolarmente per la sottoscrizione del verbale di giuramento. Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Vincenzo Amendola. Grazie. 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 Grazie.